L'Inter, la suola da Inter che in casa vorrà vincere perché dopo la sconfitta vorrà presentarsi giovedì al prossimo l'aridone della poliga carica e soprattutto di poter fare l'impresa che sicuramente io sono convinto che ce la possono fare perché quando c'è un risultato solo che devi vincere i campioni vengono fuori, vengono fuori le qualità di quei giocatori che sono, quando sono al 100% sono più forti del World Cup, quindi mi aspetto soprattutto del Cesena perché l'Inter questa gara la farà, la farà per vincere e il Cesena deve essere bravo ad andare in campo con lo stesso atteggiamento perché l'obiettivo chiaramente è migliorare a prescindere da questo quiz, sappiamo benissimo che noi calcoli non bisogna farne, fuori casa bisogna migliorare e migliorare fuori casa significa metterci un po' più di ritmi alti, avere meno timore della squadra avversaria fuori casa e un po' più di quello che chiamo io le famose 3C, concentrazione, coraggio e cuore. L'importante è che il Cesena gioca la prima partita, ai ragazzi gli ho detto anche stamattina, timore, lasciamo da casa, prendiamo il coraggio, andiamo lì e giochiamoci una nuova partita, quando si vada a pressare forte si passiamo avanti, quando si vada a difendere si difende più insieme, non cambia niente, però quando ci abbiamo la palla di giocare a due tocchi in velocità e smarcandoci nel modo giusto dove noi ogni tanto facciamo anche male, perché c'è anche questa caratteristica, anche se ultimamente ripeto, il Cesena ha fatto due partite dove sull'azione del gioco sono state fatte, ma quello che mi è piaciuto di più è la compattezza di squadra che sta crescendo, è evidente, se vuoi salvarti sulla compattezza di squadra devi essere perfetto.